Non dichiaro i bonifici di Silvio Berlusconi, sequestrati 10,8 milioni all'ex senatore dell'Utri e alla moglie Miranda Anna Ratti, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze sui presunti mandanti esterni delle stragi mafiose delle 1993 a Roma, Milano e Firenze, dove l'ex senatore di Forza Italia risulta ancora indagato. Ad eseguire il provvedimento è stata la dia di Firenze. Secondo l'accusa, dell'Utri non avrebbe dichiarato ai fini fiscali un ammontare complessivo di 42 milioni e mezzo come variazione del reddito, così violandolo a legge Rognoni-Latorre sulle misure antimafia. Gli oltre 42 milioni non dichiarati, secondo la procura, sono i bonifici che l'allora leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, verso a dell'Utri una volta condannato con decisione passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014 per concorso esterno in associazione mafiosa. dell'Utri infatti avrebbe omesso di comunicare, entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali.